Una buona serata a tutti voi, grazie per essere qui in mia compagnia ad Angoli anche nella serata di Santo Stefano. Ancora tantissimi auguri da parte di tutti noi, benvenuti come sempre e anche questa sera vi ricordo come restare sempre in contatto con la nostra redazione. Molto semplicemente basta mandare una mail anche nei giorni di festa al nostro indirizzo di posta angoli-espansionetv.it Quindi apriamo questo appuntamento in pieno insomma delle feste, delle celebrazioni natalizie con un momento magico, magico per davvero. E quindi salutiamo il nostro ospite, ringrazio Edoardo Ares per essere qui. Grazie a te. Ciao, grazie per essere qui nei nostri studi in questa serata davvero natalizia e di festa dove i momenti insomma di gioco, di giochi di prestigio insomma, di illusionismo. Una serata magica. Quelli che tu ci proporrai questa sera davvero stanno perfettamente. Certo. Quindi siamo a tua disposizione, siamo qui per te. Ok, io direi di iniziare subito. Allora, cosa ti faccio vedere? Sono andato poco fa a fare un po' di acquisti in centro e ho chiesto dei sacchetti, infatti mi hanno consegnato dei sacchetti vuoti di carta e ne ho qua con me tre. Per cui, ecco facciamo vedere anche in camera, sacchetti. Ok, e niente, bisogna usare semplicemente un po' di immaginazione. Ah, ecco subito una bella magia. Insomma, poi in queste serate di festa, un cioccolatino assolutamente ci vuole. Ci vuole, ci vuole, perché c'è l'atmosfera. Certo, bene bene. Ok, e ti farei vedere anche un'altra cosa, un gioco di prestigio a cui sto lavorando ultimamente e si basa su un film, su un film che mi ha ispirato, che è La Banda dei Babbi Natale, di Paolo Genovese, con Aldo Giovanni e Giacomo, film del 2010 molto bello. E voglio fartelo con queste quattro carte, queste quattro carte che rappresentano quattro babbi di Natale. Uno, due, tre e quattro. Ovviamente disegnate da me. Infatti, è rappresentata tramite una berretta di Babbo Natale. Cosa succede? Perché queste quattro carte sono magiche? A me basta schioccare le dita una volta, che un Babbo Natale su quattro si gira a faccia in alto. Se io prendo le carte e schiocco le dita due volte, due babbi di Natale si girano a faccia in alto. Se io prendo la carta e la metto sotto, in questo modo rispetto alle altre, schiocco le dita uno, due, tre volte, anche il terzo Babbo Natale si gira a faccia in alto. C'è una sola carta che non si gira mai ed è il quarto Babbo Natale, il più difficile degli altri. E infatti per lui ho preparato un altro gioco di prestigio. Un gioco di prestigio speciale. Infatti mi basta prenderlo in questo modo. Per farlo sparire, lasciando gli altri tre Babbo di Natale. Esattamente qua. Ora, c'è una frase di un film che mi ha fatto riflettere. Questo film è Polar Express. Parla Polar Express. E affermava che lo spirito natalizio alberga nel tuo cuore. Quindi esattamente qui. E infatti io ho esattamente con me un portachiavi. E all'interno di questo portachiavi c'è il quarto e l'ultimo Babbo Natale. Eccolo qui. Insomma, davvero le magie del Natale non finiscono soltanto con la notte di Natale, ma continuano. Iniziano con la notte di Natale. Certo, iniziano e non finiscono, diciamo così, perché Ares è qui con noi per queste magie. Tra l'altro voglio dire appunto a chi ci ascolta che tu sei anche una persona molto generosa, perché porti questa gioia non solo ad Angoli, noi ti ringraziamo molto per questo, ma anche in altri contesti. Li vuoi raccontare? Sì, li porto più che altro nei contesti sociali difficili. Mi sono esibito molte volte negli ospedali, ho collaborato con alcune onlus, che sono Paolo Faggetti e Onlus per quanto riguarda la zona di Olgiateco Masco. Abbiamo fatto un evento alla casa di Paolo e Piera nel novembre 2016 con Associazione Dono, i servizi sociali olgiatesi, ma anche con altre onlus anche fuori da questa provincia, come Tirona Manolus di Desio, con cui ho appena vinto un torneo tra prestigiatore appunto per beneficenza. E sì, sì, per me è una cosa molto appagante, molto appagante, infatti molti mi chiedono perché fai beneficenza? E vi posso garantire che la beneficenza paga, il punto è che non paga in soldi. Intanto perché si fa, perché bisogna farla. Non paga in soldi ma paga in altro e questa cosa qua molti non la capiscono, però è fondamentale secondo me. Ed è bello che tu lo ricordi proprio in queste giornate di festa dove bisogna anche essere ancora più buoni. Ma io sono ancora curiosa di vedere qualcosa. Assolutamente sì, ti faccio vedere un altro gioco, questa volta con un mazzo di carte. Allora facciamo un gioco adesso con le quattro carte più importanti del mazzo, i quattro assi. Quindi Dolores ti chiedo gentilmente di dirmi stop. Stop. Ecco qua il primo asso. Non ci credo. Questo qua è molto bello, però la cosa più bella è che io in tasca ho un'altra carta ed è il secondo asso. Ecco. Se io schiocco le dita il mazzo sparisce e arriva il terzo asso e il quarto asso è esattamente sulla manica, invisibile. Si unisce agli altri quattro. E tutto il mazzo che è sparito appare esattamente all'interno della custodia. Eccola qua. Quindi insomma, che dire, queste magie davvero ci coinvolgono e ci lasciano a bocca aperta. E questo è l'obiettivo dei prestigiatori? È quello l'obiettivo, esattamente. È proprio il ruolo della magia. Che cosa ti aspetti da chi ti osserva, da chi insomma cerca di capire quali siano i trucchi, che siano sempre sterefatti e stupiti? Diciamo che il mio obiettivo è regalare appunto emozioni, attimi di stupore, far dimenticare magari per pochi secondi le paure quotidiane, i problemi e regalare dei minuti di svago, per cui anche per rilassarsi un attimo. Com'è nata in te questa passione? Questa passione è nata dieci anni fa. Tu sei molto giovane tra l'altro, ecco, si vede non c'è bisogno di sottolinearlo, ma sei giovane per davvero. Sì, tra quattro giorni compie vent'anni. Ah, quindi è giovanissimo, mamma mia. E quindi quando inizia in te questo interesse? È nata dieci anni fa, prima che diventasse un lavoro, è nata perché io volevo fare il supereroe. In che senso? E io volevo avere poteri magici e fare cose che nessuno poteva fare, che erano impossibili, e ho trovato il mio modo per farle. Quando ho scoperto che non potevo diventare un supereroe, sono diventato un mago. Detto questo, ti farei vedere un'ultima cosa, se voglia. Ok. Ho qua con me un mazzo di carte. Però prima voglio prendere tre oggetti che ho portato per te e che ho messo qua. Tre oggetti natalizi, infatti c'è un panettone, c'è un orsetto, e infine, sì, una decorazione del ladro di Natale. Certo. Cosa succede ora? Ti avvicino al tavolino innanzitutto. Ok. Ti succede qualcosa? No, non succede niente, non preoccuparti. Però cosa succede adesso? Io schiocco le dita e quando io schiocco le dita, senza farti influenzare, tu dovrai mettere due dita su due oggetti, quali che vuoi. Cioè quindi con una mano uno e con un'altra. Esatto, due dita su due oggetti. Sei pronta? Quando schiocco le dita? Sì. Tre, due, uno, vai. Oh, fantastico. Quindi eliminiamo il panettone. Apri le mani, prendi in mano i due oggetti. Fantastico. Schiocco le dita, me ne porgi uno. Uno, due, tre. Ok, perfetto, eliminiamo anche questo. Hai tenuto l'orsetto di cioccolato. Poi ce l'ho pure sul tavolo. Proviamo a fare un gioco adesso con questo orsetto, sei pronta? Sì. Scorro le carte, mi dici stop, quando vuoi. Stop. Fantastico. Guarda la carta, ricordatela. Proviamo a fare una cosa ora. Strappo l'angolo della carta. Proviamo, uno, due. Tre. Esattamente all'interno. Eh dai, ma non è possibile. Controlla, aspetta, controlla che combaci. Controlla che sia proprio questo pezzettino. Vediamo. Eh, combacia, combacia a favore di camera. Perfetto. Eccolo qua. Insomma, è proprio lui, guardate. Non c'è dubbio. Perfetto. Io non so che dire. Bellissima, una magia davvero di Natale, della quale ti ringraziamo molto. Ecco, e questo ci vuole, anch'io, un pezzettino anch'io. Perfetto, un portato apposta. Anche se devo parlare non dovrei mangiare. Comunque, Natale quindi si fa. No, senti, a me piace molto che tu abbia, insomma, questa voglia di donarti e di donare dei momenti piacevoli alle persone meno fortunate. Tu collabori anche con delle associazioni, se non mi sbaglio. Sì, certo. Ho avuto tutti quelli della casa di riposo di Giappiano Gentile che ci stanno guardando. E sì, è molto bello. Devo dire che è molto, molto appagante. Quindi, insomma, quando tu vai in questi luoghi, le persone ti accolgono con gioia, con entusiasmo. Ti chiedono dei giochi particolari. Questi giochi, io credo che tu li abbia preparati apposta per questa serata. Sì, li ho preparati apposta per voi e per gli spettatori a casa. Ecco, però sicuramente saranno moltissimi giochi di prestigio che tu sai proporre. Credo, insomma, siano ogni volta accolti con grande entusiasmo da queste persone. Certo, sì. Ho un repertorio che ultimamente è diventato abbastanza vasto, anche per esigenze professionali. E questa cosa qua è una cosa molto bella e su cui ho lavorato molto. Tra l'altro adesso sto lavorando a un ulteriore progetto, di cui però non posso ancora accennare niente, con Marco, che è un mio collega che saluto. E niente, adesso vedremo un po' come andrà, insomma. È un'avventura e noi ci proviamo. Bene, quindi, senti Ares, abbiamo Edoardo Ares, così insomma ti inquadriamo come per quello che è anche il tuo nome d'arte, immagino, è corretto. Senti, abbiamo ormai 30 secondi a disposizione. Non so se ci sta un'altra magia, se ce l'hai così veloce. Assolutamente sì, proviamo a fare. L'ultima con la quale salutiamo. L'ultima, la improvvisiamo proprio. Improvvisiamo, va bene. Allora, mazzo di carte. Scorro, tu mi dici stop quando vuoi. Ok, stop. Ok, guarda la carta, ricordatela. Sì. Facciamo vedere anche in camera. E adesso proviamo a fare una cosa. Mischio, provo a ritrovare la tua carta, semplicemente tagliando il mazzo. E una carta esce dal mazzo, ed è esattamente... Ed è esattamente la mia, eccola. E insomma, che dire. Perfetto. Edoardo, io ti ringrazio tantissimo, soprattutto per essere venuto qui in questi giorni di festa, insomma, a festeggiare e a celebrare il Natale qui ad Angoli. È stato un piacere per noi e quindi soprattutto complimenti per la tua generosità, come abbiamo detto, per essere presenti anche... Posso fare due secondi di saluti? Certo, questo ti invito a fare. Saluto tutto il mio staff che sta collaborando con me, quindi Daniel, Gabriele, Francesco, Samuele, Simone e tutti gli altri. Per cui grazie a tutti i ragazzi e grazie alla redazione di Angoli, soprattutto. Certamente, quindi grazie davvero e soprattutto ancora tantissimi auguri, perché il Natale le feste continuano. Certo, auguri a tutti i suoi dati e buon anno. Bene, ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi continuiamo a festeggiare. Quindi restate con noi. Grazie. Grazie.